Sono stati definiti anche gli ultimi dettagli, Barella sarà presto un nuovo giocatore dell'Inter Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video in cui volevo esaminare con voi questo colpo nero azzurro però prima di farlo vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale e se volete vi invito anche a seguirmi su Instagram simonsigno-giallorosso come detto qualche settimana fa quando Barella sembrava molto vicino alla Roma per me è un buon giocatore, un ottimo giovane che però non vale assolutamente né 35 milioni più il cartellino di De Frel né tantomeno 40 milioni più 5 di bonus adesso Giulini, Marotta ed Ausilio si dovranno mettere d'accordo sulla modalità di pagamento se dovesse essere un prestito con obbligo di riscatto o un trasferimento a titolo definitivo ma alla fine poco cambia, Barella sarà un nuovo giocatore dell'Inter per 45 milioni per me è una cifra veramente esagerata vi ho detto che per me Lazzaro, nonostante anche lì la cifra forse sia leggermente alta è un grandissimo colpo vi ho detto che Sensi è un colpaccio visto che lo hanno preso in prestito con detto di riscatto senza parlare di Godin ma questo non lo vedo come un colpo fenomenale è un buon giocatore che sicuramente con Conte crescerà tantissimo ma che non può valere 45 milioni adesso alla fine tra la Roma che lo voleva l'Inter e Giulini ha vinto proprio il presidente del Cagliari che è riuscito a strappare il più possibile dalla sua è riuscito a ricavare il più possibile dalla cessione del suo gioiello ieri si era parlato addirittura scusate no, l'altro ieri o il giorno prima ancora comunque qualche giorno fa si era parlato di un possibile rinnovo di contratto per il Cagliaritano con clausola a 50 milioni e a farsa tale banco però è stata l'offerta dell'Inter che ha subito messo sul piatto 45 milioni bonus più parte fissa che hanno convinto il presidente del Cagliari ad accettare l'offerta l'Inter comunque aveva da tempo l'accordo con il giocatore quindi tutte le carte ormai sono scoperte e Barella è un nuovo giocatore dell'Inter per l'annuncio mancano veramente pochissime ore vi invito a lasciare un mi piace, un commento e se volete anche un'iscrizione al canale ciao ragazzi ciao 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 ciao